CIPPER TV CIPPER TV CIPPER TV Buongiorno ragazzi, anche oggi siamo qui con CIPPER TV a CrossFit Perugia per i workout del mercoledì inizieremo il nostro warm up con 10 deadlift con il PVC 10 calorie a row e 15 sit up con l'ABMAT quello che dovremmo fare oggi è deadlift dai blocchi quindi dovremmo fare heavy set da 3 ripetizioni cercando di implementare il peso in ogni serie il workout di oggi è un 4 time in cui ci avremo semplicemente due esercizi, deadlift e GHD sit up partiremo con 30 GHD sit up 12 deadlift 24 GHD sit up 9 deadlift, 18 GHD sit up 6 deadlift, 12 GHD sit up 3 deadlift 6 GHD sit up, time quindi buon lavoro bocca al lupo e divertitevi per la notizia 5 minuti suporti via 5 minuti per la notizia